A far scattare l'operazione della Guardia di Finanza di Treviso il controllo su un cittadino moldavo residente nel Trevigiano, assegnatario di una casa Ater. Dai documenti era emerso che l'uomo non solo aveva sostenuto nella dichiarazione dei redditi crediti di imposta inesistenti, ma aveva anche inserito familiari residenti all'estero, notizie risultate false, indagini che poi hanno portato in Emilia Romagna. Qui si è scoperto che un centro di assistenza fiscale in provincia di Bologna, dietro compenso, favoriva la compilazione di dichiarazioni fiscali fraudolente, dove venivano indicate delle voci che consentivano di ottenere degli indebiti vantaggi fiscali. Una froda fiscale commessa tra il 2012 e il 2016 a favore di migliaia di contribuenti. L'imputato avrebbe permesso di ottenere crediti IRPEF non dovuti per oltre 2 milioni di euro. L'uomo, proprietario del CAF, è stato arrestato e dovrà scontare una pena di 30 mesi di reclusione. L'immobile, del valore di 100 mila euro, è stato confiscato ed è passato all'Agenzia del Demagno di Bologna. L'indagine ha permesso di denunciare 66 persone, delle quali 12 residenti nella marca, e sanzionare migliaia di persone. L'indagine aveva consentito di scoprire l'intero meccanismo di frode e ottenere l'annullamento di oltre 300 modelli 730 presentati con l'indicazione di quasi 1 milione di euro di crediti IRPEF non spettanti, che così non sono stati liquidati. Le indagini della Guardia di Finanza di Treviso continuano. L'attività investigativa dimostra l'importanza di perseguire le frode fiscali anche sul piano patrimoniale, sottraendo ai responsabili dei reati i beni attraverso cui sono state commesse le condotte delituose.